Musica Riforma Tribunali, Sala Consilina Terra di Mezzo, Eboli alla ricerca della circoscrizione. Riforma BCC, il direttore Angelo De Luca spiega la riforma del credito cooperativo. Polla, presentato in conferenza stampa, il cartellone della rassegna Teatro Amore Mio, organizzato dall'Associazione Tempo e Memoria. Sant'Arsenio, domenica 25 ottobre, mostra mercato dei prodotti agricoli. Sport, gli appuntamenti del fine settimana per calcio, calcio a 5 e volley femminile. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Uno News. Apriamo questa edizione con la riforma delle corti d'appello, che riapre a nuovi scenari e riguarda anche i tribunali minori. La riforma Severino non è condivisa dall'attuale ministro della giustizia Andrea Orlando, ritenendola troppo restrittiva e vuole così riscrivere la riforma con nuove regole anche per le corti d'appello. Questa mattina, nel pensare al Tribunale di Sala Consilina, viene la voglia di paragonarlo alla corda utilizzata nel gioco del tiro alla fure, chi lo vuole di qua e chi lo vuole di là. Il dubbio sorge nel momento in cui si legge l'articolo apparso sul quotidiano il mattino, che riferendosi all'istituzione delle due commissioni per una nuova riorganizzazione della geografia giudiziaria, ricorda il rischio di soppressione per la corte d'appello di potenza. Effettivamente non è utopistico pensare che il sistema giudiziario di Basilicata e Campania venga nuovamente stravolto da una nuova riforma, visto che il ministro Orlando ha considerato inappropriata la prima realizzata, a parere dello stesso ministro, con sostanziali limiti imposti dalla legge delega. Pertanto, secondo Orlando, la riforma va nuovamente presa in esame e realizzata senza tener conto di due aspetti precedentemente imposti, cioè il criterio relativo alla voce e almeno tre tribunali per ogni distretto di corte d'appello che deve essere rimosso, rendendo eventualmente possibile la soppressione anche di quei tribunali che non essendo stati chiusi nella prima riforma in quanto necessaria alla regola del 3 potranno ora essere rimossi se non raggiungono un sufficiente standard di efficienza, anche se ciò volesse dire ridurre a due o addirittura un solo tribunale per corte d'appello. E poi la decisione di rinurre il numero delle corti d'appello, notizia ormai ben nota a tutti. In effetti, nel tempo si è fatto un gran parlare della soppressione delle corti d'appello con la possibilità concreta per la Basilicata di perdere la sede di potenza, senza invece porre l'accento sull'altra volontà che porterebbe, molto probabilmente, a riscrivere nuovamente la geografia giudiziaria dopo appena due anni dall'entrata in vigore della legge Severino, che era già stata particolarmente criticata, soprattutto per l'eccessivo rigore utilizzato nella regola del 3, da più parti considerato un'interpretazione sbagliata, dato che si parla di almeno, cioè minimo, tre tribunali, quindi non erano esclusi dalla legge delega la possibilità di mantenimento in vita di quattro o anche cinque tribunali per corte d'appello. Con il ministro Orlando si pensa ad una nuova riorganizzazione che non solo ipotizza di ridurre ulteriormente, come si legge dalle direttive emanate dal Ministero della Giustizia, il numero dei tribunali per corti d'appello, ma che punta anche ad eliminare alcune corti d'appello tra quelle esistenti, come la sede di potenza. A questo punto è logico chiedersi cosa ne sarà del Tribunale di Sala Consilina. La speranza sicuramente è quella di una sua riapertura. Dalle pagine del quotidiano il mattino, però, l'ex foro di giustizia salese sembra più terra di conquista, quasi il fazzoletto al centro della corda, con le squadre del tiro alla fune, che tirano di qua e di là. Dopo che il Tribunale di Lago Negro è riuscito a raggiungere la salvezza a seguito dell'accorpamento del distretto di Sala Consilina, ora, a seguito della sempre più probabile soppressione della corte d'appello di potenza, Salerno rivorrebbe indietro Sala Consilina, forse per evitare una possibile soppressione della sua corte d'appello. Ed ecco che si ripropone il discorso con fini regionali. Il Tribunale di Sala Consilina non può far parte della corte d'appello di Catanzaro, come ipotizzato per Lago Negro, ma deve tornare a Salerno. Come? Dando vita ad un Tribunale di Eboli-Sala Consilina, con sede a Eboli. Questa è, insomma, l'ipotesi che si prospetta dalle pagine del quotidiano il mattino. Stiamo parlando di ipotesi, forse otopistica, ma la storia insegna che su questo tema tutto è possibile. Ed ora passiamo alla cronaca. Intensa attività da parte della Compagnia dei Carabinieri di Sala Consilina. Tre distinte operazioni condotte nella giornata di ieri. Vediamo i dettagli nel prossimo servizio. Giornata intensa quella di ieri per i militari della Compagnia di Sala Consilina, guidati dal Capitano Emanuele Corda. Nell'ambito di specifici servizi tesi a contrastare l'illegalità, i militari della Compagnia di Sala Consilina hanno eseguito due distinte operazioni. A buon abitacolo, i militari della stazione locale hanno ritirato la patente ad un giovane del luogo, trovato in possesso di 0,5 grammi di marijuana a seguito di perquisizione veicolare. Mentre ad Atena Lucana, i militari del NOR hanno denunciato un ragazzo del posto per guida senza patente, in quanto ritirata lì negli anni passati, segnalandolo alla prefettura quale assuntore, essendo stato trovato in possesso di 11,5 grammi di hashish. Inoltre sono state elevate contravvenzioni al codice della strada per una somma pari a 500 euro circa. Sempre nella giornata di ieri, i militari della Compagnia di Sala Consilina hanno sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ad un uomo del Valo di Diano nei confronti dell'ex convivente. La misura scaturisce da anni in cui la donna è risultata vittima di minacce e in alcuni casi di percosse. Ora l'uomo non potrà avvicinarsi alla donna e ai luoghi frequentati dalla stessa per una distanza di almeno 400 metri e ha il divieto di comunicare con la stessa telefonicamente, avendola anche tempestata di sms dal tono ingiurioso. In caso di violazione, per l'uomo scatteranno le manette. E voltiamo pagina. Si è tenuta ieri la riunione dove si è parlato dell'esito degli incontri con i dirigenti dei diversi istituti di credito della parte sud di Salerno. Resta in piedi l'ipotesi di fusione tra tutte le BCC dell'area. Si sono riuniti ieri, come annunciato, i membri del comitato che punta alla costituzione di una BCC unica del territorio a sud di Salerno. Il comitato, costituitosi a seguito dell'annunciata fusione della BCC di Sassano con un altro istituto di credito, in questi giorni ha incontrato i responsabili delle diverse banche di credito cooperativo presenti nell'area, per comprendere la disponibilità e la volontà ad accorpare tutti gli istituti di credito in un'unica BCC. Ieri sera, presso l'agriturismo Leacace di Sala Consilina, i componenti del comitato hanno illustrato ai presenti l'esito dei colloqui avuti con i dirigenti degli istituti di credito. Dopo aver sottolineato come con i diversi dirigenti gli incontri si sono svolti in un clima di cordialità, i membri del comitato hanno anche voluto chiarire che gli elementi raccolti sono importanti anche per giungere all'Assemblea dei Soci, nel corso del quale sarà deliberata la fusione e la proposta della Banca d'Italia con unità di intenti e consapevoli della decisione. Una conoscenza dei dati a fondamento della scelta finale richiede un atteggiamento responsabile, costruttivo e libero da appartenenze di parte e potranno determinare un'Assemblea capace di adottare il deliberato più giusto, rispettoso dei convincimenti dei soci, così come era obiettivo del comitato, costituitosi dopo la constatazione dell'assenza di note informative sulla delicata fase in corso da parte del Consiglio di Amministrazione della BCC di Sassano, dopo le interrotte trattative con i dirigenti della Banca Monte Bruno di Roscigno. Siamo tutti consapevoli, fanno sapere dal comitato, che sarà la Banca d'Italia, dall'alto della sua funzione e responsabilità istituzionale, a dover individuare la soluzione più opportuna e rispondente alle esigenze e alla situazione in cui si è venuta a trovare la nostra BCC, che si è ribadito, detiene un solido patrimonio, neppure lambito dalle vicende che tutti ormai conoscono. Per tale istituzione noi nutriamo una fiducia al massimo grado. Si auspica, continuano i membri del comitato, che in un clima di ritrovata volontà a rinnovare i nobili motivi fondativi che diedero vita al nostro sodalizio, possa avere luogo un'Assemblea in grado di fornire ulteriori elementi di conoscenza, perché possa essere utilmente propedeutica all'Assemblea finale. Perché questo percorso virtuoso, volto a raccogliere risultati positivi, possa giungere alla meta desiderata, concludono, è opportuno che ciascuno di noi resti vicino alla banca e sia protagonista attento. E della nuova normativa che andrà a regolamentare le BCC ce ne parla il direttore della Banca di Credito Cooperativo di Buonabitacolo, Angelo De Luca, intervistato per noi da Lorenzo Peluso, spiega nel dettaglio le novità introdotte e le eventuali conseguenze. Ascoltiamo alcuni passaggi della sua intervista. Grazie. 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 Per hobby e per passioni. E questo il titolo del libro che sarà presentato domani a Padula presso la sede sociale del Circolo Carlo Alberto 1886 per il terzo appuntamento della rassegna Ottobre Piovono Libri organizzato dal Circolo in collaborazione con la Banca Montepruno. Nell'ambito dell'iniziativa culturale denominata Ottobre Piovono Libri organizzata dalla Circolo Sociale Carlo Alberto 1886 in collaborazione con la Banca Montepruno, domani, sabato 17 ottobre, si terrà il terzo appuntamento. Presso la sede del Circolo in viatenente d'Amato a Padula si terrà la presentazione del libro dal titolo Per hobby e passioni, dai fanatici di Barbie ai ladri di manoscritti, dal cultori del sesso ai collezionisti di farfalle, scritto dalla giornalista e scrittrice Giulietta Rovera. Dopo i saluti iniziali del primo cittadino di Padula, Paolo Imparato, del vicepresidente della Banca Montepruno, Pierangelo De Siervi e del presidente del Circolo Sociale Carlo Alberto, Felice Tierno, discuteranno del libro, l'autrice Giulietta Rovera e Tiziana Boveferrigno, assessore alla cultura, turismo e spettacolo del comune di Padula, ed Emilio Giordano, critico letterario e consigliere alla cultura del Circolo Sociale Carlo Alberto, nonché curatore della rassegna Ottobre Piovono Libri, rassegna che è promossa dal Centro per il Libro e la Letteratura della Direzione Generale per i Beni Librari, gli istituti culturali e il diritto d'autore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in stretta sinergia con la Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, l'Unione delle Provincie Italiane e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Ed ora ci spostiamo a Sant'Arsenio, dove questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della tredicesima edizione di Teatro Amore Mio, organizzata dall'Associazione Tempo e Memoria con la collaborazione della Banca Montepruno. Gli spettacoli che prenderanno il via domenica 25 ottobre si terranno presso il Centro Sociale Don Bosco di Polla. Questa mattina presso la Sala Cultura della Banca Montepruno si è tenuta la presentazione ufficiale della rassegna teatrale Teatro Amore Mio, organizzata dall'Associazione Tempo e Memoria di Polla con il supporto e la collaborazione della Banca Montepruno e il patrocino del Comune di Polla e della diocesi di Tegiano Policastro. Nel corso della conferenza stampa, che ha visto la presenza dei membri dell'Associazione Organizzatrice del responsabile area comunicazione della Banca Montepruno Antonio Mastrandrea, del sindaco di Polla Rocco Giuliano, è stata sottolineata da più parti l'importanza del sostegno dell'Istituto di Credito diretto da Michele Albanese nelle iniziative culturali, così come l'impegno e la dedizione che i membri dell'Associazione Tempo e Memoria dedicano al teatro. In particolare, il sindaco di Polla Rocco Giuliano ha ringraziato la Banca Montepruno, sempre vicina ad iniziative culturali che invece le istituzioni tendono a tralasciare, ma che risultano di fondamentale importanza per una crescita culturale del territorio. Il presidente dell'Associazione Tempo e Memoria, Vincenzo D'Amico, ha voluto lanciare invece un allarme ricordando come la passione per il teatro, così come la crescita e la partecipazione agli spettacoli, sia spesso soffocata dall'assenza di strutture adeguate dove potersi esprimere. D'Amico ha voluto ringraziare la Banca Montepruno per essere sempre vicina alle attività dell'Associazione Tempo e Memoria e delle altre associazioni, ricordando quanto il contributo dell'Istituto di Credito sia importante per loro. Inoltre ha ringraziato anche l'amministrazione comunale di Polla che ha concesso la disponibilità di utilizzare la struttura del Centro Sociale Don Bosco gratuitamente, anche questo ritenuto un importante sostegno alla realizzazione della rassegna. Ed ora le interviste realizzate a margine della presentazione della tredicesima edizione della rassegna Teatro Amore Mio. La nostra associazione che voglio anche ricordare quest'anno festeggi il trentesimo anniversario della fondazione è lo scopo soprattutto di divulgare la cultura tramite lo spettacolo teatrale. Dunque noi all'inizio avevamo gli appuntamenti saltuari da un po' di anni, praticamente da tredici anni e ormai questi appuntamenti sono diventati fissi e abbiamo questa rassegna che l'abbiamo anche un po' dislocata perché all'inizio era la fine di luglio, poi a fine agosto visto che c'erano molti impegni anche in zona e visto anche il crescente aumento da parte delle persone che amano il teatro che nel Vallo di Diano ce ne sono tanti sia appassionati che frequentano il teatro come attore e sia come spettatori allora visto questa crescente richiesta l'abbiamo dislocata adesso alle domeniche diciamo tra ottobre e dicembre in modo da dare la possibilità a più persone di assistere a degli spettacoli anche di una certa qualità eppure per uscire anche da quei periodi che sono pieni di avvenimenti qui nel Vallo di Diano e anche per dare un po' più di risalto a una manifestazione che comunque da parte nostra richiede anche molto impegno e sacrifici. Il gruppo teatrale ci chiamiamo i saltibanchi di Don Bosco e poi abbiamo formato questa associazione culturale Tempo e Memoria perché raggruppiamo anche vari altri settori specialmente nel sociale in cui siamo anche impegnati vediamo anche la vacanza dei sorrisi e altre manifestazioni che abbiamo fatto precedentemente per i rifondi, come dire, per aiutare i bambini nel dotarli dell'ospedale di Polla pediatrico con dei videoregistratori oppure abbiamo comprato per la protezione civile di Polla sempre in un'altra manifestazione delle radio e queste cose qui allora noi iniziamo 30 anni fa proprio nel 1985 con in testa Don Franco Maltempo fondammo questo oratorio presso la parrocchia San Pietro Apostolo di Polla e insieme a questo oratorio fondammo già da allora le varie attività nostre c'era anche l'attività teatrale fondammo proprio questa associazione anzi no l'associazione il gruppo teatrale e i raltimbanchi di Don Bosco e una delle prime rappresentazioni appunto fu proprio, ricordo benissimo fu pericolosamente e farmacia di turno poi facciamo in occasione del centenario della morte di Don Bosco nel 1988 facciamo una rappresentazione teatrale sulla vita di Don Bosco e così via abbiamo continuato negli anni queste cose poi negli ultimi decenni diciamo nel 2000 in poi ci siamo un po' trasformati abbiamo fissato questi appuntamenti facendo anche questa rassegna Un'importante iniziativa che presentiamo stamane qui presso la Sala Cultura della nostra sede amministrativa un'importante rassegna teatrale oltre a valorizzare i talenti è importante soprattutto valorizzare l'aspetto culturale del territorio e siamo davvero soddisfatti come dicevi tu prima giustamente di proseguire su questo percorso anche da diversi anni con l'associazione Tempo e Memoria e stamattina abbiamo voluto proprio fare una conferenza per lanciare sul territorio questo nuovo cartellone questa nuova rassegna 2015-2016 dove ci sono numerose ed importanti novità Bentornati studio seconda parte di Uno News è stato presentato ufficialmente questa mattina il programma della mostra mercato dei prodotti agricoli del Cilento Valodidiano e Alburni che si terrà nella giornata di domenica 25 ottobre a Sant'Arsenio a partire dalle ore 9.30 ai nostri microfoni ascoltiamo le parole di uno degli organizzatori dell'evento l'obiettivo dell'iniziativa è proprio questo mettere in mostra tutte quelle che sono le eccellenze del territorio non solo il Valodidiano ma anche il Cilento degli Alburni perché l'iniziativa parte dal presupposto che dobbiamo cercare di unire i territori e di farli collaborare e di farli interagire la cosa importante di questa manifestazione oltre la possibilità di far conoscere i prodotti tipici e le eccellenze le produzioni del Valodidiano del Cilento e degli Alburni è anche quella di far incontrare le stesse aziende del territorio con i cosiddetti buyer cioè con gli agenti di commercio di questi prodotti in modo da aprire a nuovi mercati a nuovi mercati le possibilità delle aziende e quindi di poter allargare quella che è la redditività delle aziende perché l'obiettivo è quello soprattutto di far aumentare i prezzi dei prodotti agricoli cioè i produttori potrebbero così vendere i prodotti a miglior prezzo a mercati che sicuramente li pagherebbero di più la crisi economica e le condizioni sociali di questi ultimi anni hanno portato che molti giovani effettivamente sono ritornati alla terra però per poter lo dicevo prima per poter dare effettivamente un'opportunità ai giovani dobbiamo garantire anche la redditività perché se il lavoro è tanto però poi il ritorno economico è molto ridotto allora purtroppo i giovani comunque non riescono a trovare quella che era la loro realizzazione economica quindi dobbiamo cercare di produrre di più attrarre i giovani all'agricoltura all'allevamento ma dobbiamo anche permettere loro di aumentare la redditività innanzitutto a me mi fa conforto che le aziende interpellate molti di queste sono venute la cosa che mi fa più conforto ancora è quello che molte aziende mi hanno detto di no in quanto non tengono prodotto questa è una cosa bellissima per me è una cosa veramente molto importante dice Ancelo io ma cosa vengo a portare cosa vengo a portare già ho finito tutto di conseguenza è una cosa bella perciò significa che i nostri prodotti sono di una certa qualità e allora la gente si compra i prodotti di una certa qualità è una cosa molto importante la cosa importante che per me è più delle altre che sono riuscito a mettere insieme Vallo di Diano il Cilento e gli Alburni cosa che si deve fare e dobbiamo continuare a fare e spero che nel prossimo avvenire si facciano altre manifestazioni e non solo a San D'Arsenio in tenere in modo che tutti quanti devono avere questa cosa Ed ora l'ampia pagina sportiva si torna in campo domani per il campionato di prima categoria con l'anticipo che vede impegnato il Certosa di Padula nella sfida contro il Rofrano Montesano e Pollese invece si preparano in vista delle trasferte di domenica Dopo il turno infrasettimanale di Coppa Italia di mercoledì siamo già alla vigilia della seconda giornata del campionato di prima categoria Girone G Apre le danze il Certosa di Padula che davanti al proprio pubblico riceve il Rofrano in una sfida che riporta alla mente qualche mese fa quando le due squadre insieme alla nuova San Vito Sapri hanno dato battaglia per conquistare la promozione diretta in prima categoria poi arrivata per tutte e tre Domenica pomeriggio invece sarà la volta del Fipe Polla e del Montesano la squadra di Mister Panza sarà di scena al Rocco di Campagna contro la compagine locale mentre il Montesano farà visita al Cicerale in un match con la squadra del presidente Baldi favorita per il successo dopo l'ottima e roboante vittoria contro il Pro Palinuro tra le altre gare del weekend alta attenzione per Pro Palinuro Gregoriana due squadre che devono cancellare la sconfitta di sette giorni fa impegni esterni per Santa Cecilia e Real Palomonte rispettivamente contro Alfanese e De Ryan un test importante per le due squadre che hanno sogni di promozione Ancora calcio ma adesso parliamo di calcio a 5 Debutto Casalinco per il Futsal Clara V che domani sarà impegnato per la seconda giornata di campionato Abbiamo raccolto le dichiarazioni del presidente Spinelli che senza mezzi termini dichiara l'obiettivo stagionale ossia la vittoria del campionato Dopo la convincente vittoria sul campo del Lupe Pompei il Futsal Clara V fa il suo esordio al Palazzingaro di Sala Consilina domani pomeriggio La squadra del presidente Spinelli affronta il Real Pagani gara sulla carta alla portata della compagine salese che punta al secondo successo consecutivo anche per prepararsi al meglio al ritorno di Coppa Italia in programma mercoledì prossimo contro il Futsal Rota Grande attesa e grande voglia di far bene come testimoniano le parole del presidente Spinelli L'anno scorso eravamo una matricola abbiamo disputato un gran rischio funzionato nonostante tutti i problemi che si riscontrano in un primo anno da matricola quest'anno abbiamo rimborsato sicuramente la rosa con giocatori di primissimo livello sempre con mister parone in più rinpegrato anche Domenico Rosciano come direttore sportivo e preparatore a Telerio quindi abbiamo anche la sua esperienza in più anche quest'anno e sicuramente è inutile nascondersi ma il nostro obiettivo è quello di vincere il campionato e di riportare a sala consigliere nel Vallo quotidiano questa tanto sperata Serie C1 sicuramente domani come tutte le partite il nostro obiettivo sono i tre punti quest'anno c'è da dire che parliamo di un campionato di Serie C2 penso il più difficile negli ultimi 6-7 anni con davvero corazzate ci sono squadre che hanno preso giocatori di Serie B di Serie Maggiori anche al punto della Serie A2 dell'anno scorso quindi veramente un campionato difficilissimo e chi riuscirà a vincere quest'anno sicuramente entrerà dalla porta principale nel mondo proprio del salvere e proprio L'altra compagine valdianese impegnata nel campionato di C2 di calcio a 5 è la Caggianese la campagine allenata da mister Lamattina cerca punti salvezza e dovrà farlo in caso del Real Cesinali una partita difficile come sarà tutto il campionato dei Granata la prima prova l'hanno avuta sette giorni fa contro l'Atletico Nocera il messaggio che è uscito fuori dalla sfida contro i Molossi è stato chiaro bisogna stare sul pezzo per tutti i 60 minuti perché basta poco per cambiare e sovvertire l'andamento di una sfida questo è il futsal e lo sanno bene Carucci e Soci che cercheranno di portare a casa i primi punti della stagione Lasciamo il calcio e parliamo di pallavolo tutto pronto per l'inizio del nuovo campionato in casa Antares domani sera la presentazione ufficiale della squadra domenica invece il debutto in campionato contro lo Sportland Montesarchio in attesa in attesa del butto stagionale in campionato in casa contro Sportland Montesarchio in programma domenica pomeriggio alle 18 al Palazzingaro di Sala Consilina domani sera sabato 17 ottobre la Rosciano Distribuzioni o Antares sarà presentato ufficialmente alla stampa e alla cittadinanza di Sala Consilina la squadra lo staff tecnico e la società quindi sarà domani sera presso il Palazzo Comunale di Sala Consilina e darà il via ufficialmente alla nuova stagione della compagine salese che giocherà nel campionato di Serie C Girone B L'Antares ha già superato il primo turno di Coppa Italia grazie allo successo in casa del Volley Batipaglia sette giorni fa uno successo che ha dato la giusta carica per affrontare la prima gara di campionato in programma domenica come ci ricorda il socio dell'Antares Benedetto Mazzariello Innanzitutto siamo contenti di poter continuare questo discorso di pallavolo femminile nel Valle di Odiano che come sa ha una storia abbastanza importante e già domenica scorsa siamo stati a Battipaglia per la Coppa Campania che è veramente stata una partita molto combattuta con le Battipagliesi e siamo riusciti a vincere 3 a 2 quindi siamo passati al turno successivo tutto questo ci ha dato ancora più carica per affrontare poi la prima partita di campionato in casa e approfitto per invitare la popolazione di amanti dello sport al palazzetto dello sport al palazzingaro alle ore 18 del giorno 18 ottobre prossimo domenica quindi io ho potuto vedere un bel gruppo molto affiatato lo spogliatore molto affiatato intorno al tecnico di Novigiano e quindi speriamo che i risultati poi rispecchieranno l'andamento della preparazione perché poi oltretutto le ragazze già stanno lavorando da un bel po' e romperanno poi il ghiaccio con una bella vittoria già alla prima partita certamente il nostro obiettivo è questo proprio creare una 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 situazione sportiva proprio che attrae anche i giovani del luogo e poi naturalmente io sono sempre mentalmente a pensare che è meglio divertirsi innanzitutto e poi i risultati verranno automaticamente sono sicuro con le notizie di sport termina anche questa edizione di Uno News grazie per essere stati con noi buon proseguimento di serata Grazie a tutti